Il Partito Comunista Italiano era il più grande partito di massa di formazione marxista dell'Occidente. Appena due anni prima, nel 1987, aveva ottenuto più di 10 milioni di voti. Il 26,5% era il secondo partito italiano dopo la democrazia cristiana. Aveva superato indenne gli anni della guerra fredda, gli anni della grande trasformazione economica e sociale del paese. Anzi, in qualche modo lo aveva addirittura influenzata questa trasformazione. Eppure non resiste al tracollo del mondo comunista a cui in quegli anni era ancora fortemente legato. Proprio nel 1989, pochi mesi prima, c'era stata la grande strage a Pechino, in piazza tiene almeno i carri armati che massacrano gli studenti. E già allora, all'interno del mondo comunista, ci si interrogava sulla opportunità di potersi ancora chiamare, definire comunisti. Ebbene, quella mattina del 1989, tre giorni dopo la caduta del muro di Berlino, Achille Occhetto incontra i militanti in una sezione di Bologna, della rossa Bologna, e fa un discorso in cui dice sostanzialmente che tutte le strade sono aperte alla trasformazione. È una decisione presa dall'allora segretario del Partito Comunista in totale solitudine. Il grosso del gruppo dirigente del partito di allora ne era all'oscuro. E la riprova l'abbiamo dalla prima pagina del giorno successivo dell'unità, all'ora diretta da Massimo D'Alema, che dedica il titolo principale di prima pagina a che cosa? Alla DDR. Il titolo diceva oggi è il giorno di Modrov. Chi è Modrov? Modrov era in quel momento il nuovo primo ministro della DDR. Soltanto a centropagina, solo a centropagina, si fa riferimento al cambio di nome. Un titolo moscio e senza sapore. Dice il titolo Occhetto ai veterani della resistenza. Dobbiamo inventare strade nuove. Tutti gli altri giornali italiani invece titolavano sul cambio del nome. Inizia allora, 30 anni fa, una lunga marcia della sinistra italiana, di cui ancora oggi, in queste ore, vediamo gli effetti e le conseguenze.